Ormai la distanza era di poco più di un quarto di miglio e le posizioni reciproche variavano di continuo. La velocità del veliero catturato stava aumentando e, dopo 4-5 minuti, era una gomena sottovento rispetto alla galea. Uno sbuffo di fumo comparve a prua dell'Algerina e una palla si bilò, sorvolando il brigantino a livello delle crocette dell'albero di gabbia, seguita quasi immediatamente dal cupo rimbombo del cannone. «Prendete nota del tempo, signor Richards», raccomandò Jack al pallido segretario. La natura del pallore però era cambiata e gli occhi del giovane quasi sporgevano dalle orbite. Jack si affrettò a prua, giusto in tempo per vedere il lampo del secondo cannone della galea. Con un enorme clangore la palla colpì la marra della grande ancora di posta della Sophie, la piegò a metà e schizzò lontano nel mare. «Diciotto libri, direi», comunicò Jack al nostro uomo, in piedi al suo posto sul castello di prua. «Forse anche ventiquattro». «Ah, i miei cannoni da dodici», soggiunse tra sé. La galea non aveva cannoni sulle murate, ovviamente, ma li aveva a prua e a poppa e, con il cannocchiale, Jack poteva vedere che la batteria di prua consisteva di due cannoni pesanti, di uno più piccolo e di alcuni su affusto girevole. Era ovvio che la Sophie sarebbe stata esposta al fuoco mentre si avvicinava. In quel momento stavano sparando i cannoni girevoli, producendo un rumore secco e acuto. Jack ritornò sul casser. «Silenzio a prua e a poppa», gridò al di sopra del brusio eccitato. «Silenzio! Liberate i cannoni! Puntate! Via il tappo di volata! Cannoni in batteria! Signor Babington, dita al capocannoniere che la prossima scarica sarà a palla incatenata!» Un proiettile da 18 libre colpì la fiancata della Sophie tra i cannoni 1 e 3 di sinistra, sollevando una pioggia di schegge lunghe e accuminate. Poi continuò la sua corsa sul ponte, abbattendo un fante e finendo contro l'albero di maestra. Alcune grida angosciate rivelarono che qualche scheggia aveva compiuto la sua opera e, un attimo dopo, due marinai si affrettarono a portare sotto coperta un loro compagno, lasciando una traccia di sangue dietro di loro. «Bordate di dritta! Fate fuoco mentre poggia! Mirate in alto! Agli alberi! Bene, signor Marshall, così!» La Sophie orzò di 45 gradi, presentando l'anca di dritta alla galea che spedì subito un'altra palla da 18 libre a mezza nave, appena sopra la linea di galleggiamento. La sonorità profonda dell'impatto fece sussultare Stephen Maturin, che stava legando l'arteria femorale di William Musgrave, facendolo quasi sbagliare. I cannoni della Sophie però erano ormai in posizione e la bordata di dritta partì in due scariche successive. Nel mare, al di là della galea, si sollevarono spruzzi bianchi e il ponte della Sophie si riempì di fumo acre. La nuvola turbinò via e Jack vide la galea far fuoco con tutta la batteria di prua e poi scattare sotto la spinta dei remi per evitare i colpi della Sophie. I cannoni della galea spararono alto e una palla tranciò lo strallo di gabbia di maestra, portandosi via un pezzo della testa di Moro che piombò sulla testa del capo cannoniere, affacciatosi proprio in quel momento dal boccaporto. «Forza con quei cannoni di dritta!» gridò Jack. «Barra al centro!» La sua intenzione era di riportare la corvetta con le mura a sinistra. Infatti, se avesse potuto sparare un'altra bordata, avrebbe centrato la galea mentre si spostava. Un ruggito soffocato giunse dal cannone numero 4, seguito da un urlo terribile. Nella fretta, lo scovolatore non aveva pulito bene la canna e la nuova carica gli era esplosa in faccia. Venne trascinato via, il cannone fu scovolato, ricaricato e portato in batteria. Ma la manovra era stata troppo lenta. Anzi, tutta la batteria di dritta era stata troppo lenta. La galea si era di nuovo girata, poteva muoversi come una trottola con tutti quei remi, e si stava dirigendo a sud-ovest con il vento sull'anca di dritta e le grandi vele latine distese su ciascun lato, a orecchie di lepre, come si usava a dire. Il veliero norvegese stava portando bene a sud-est, già lontano mezzo miglio, e le loro rotte dirigevano con rapidità. La manovra aveva richiesto un'incredibile quantità di tempo e la Sophie aveva perso velocità in modo sorprendente. Mezza quarta a sinistra, ordinò Jack, in piedi sull'impavesata, fissando la galea che si trovava quasi direttamente davanti alla Sophie, a poco più di un centinaio di yard, e che stava guadagnando terreno. Aprite i coltellacci! Signor Dillon, fate portare un cannone alle maschie per cortesia? Abbiamo ancora i perni dei pezzi da dodici. Da quanto poteva vedere, non avevano causato alcun danno alla galea. Sparare basso significava colpire i banchi affollati di rematori cristiani incatenati ai remi. Mirare alto. La sua testa si spostò di lato, con un movimento involontario, e il cappello volò via. Una palla di moschetto gli aveva sfiorato l'orecchio. Lo tastò con una mano, sanguinava, ed era insensibile. Jack si scostò dall'impavesata, piegando il capo di lato per lasciar colare il sangue sopra il vento, riparandosi con la destra la preziosa spallina. «Kellick!» gridò, chinandosi per osservare la galea di sotto l'arco teso della vela quadra di maestra. «Portatemi una giubba vecchia e un altro fazzoletto!» Mentre si cambiava, continuava a scrutare la galea, che aveva fatto fuoco due volte con l'unico cannone di poppa, sbagliando di poco. «Signori Dio, come sono veloci con quel pezzo da dodici!» pensò. I coltellaccini erano stati distesi e la Sophie cominciava ad acquistare velocità. Jack non era stato il solo ad accorgersene dal castello di prua, si levò un'acclamazione che si propagò verso poppa a mano a mano che i cannonieri apprendevano la notizia che il brigantino stava guadagnando sulla galea. «Cannone prodiero pronto, signore!» annunciò Dillon, sorridendo. «State bene, signore?» chiese poi, vedendo il sangue sulla mano e sul collo di Jack. «Un graffio, niente di più!» disse Jack. «Che ne pensate della galea?» «Stiamo guadagnando su di lei!» rispose Dillon. E sebbene parlasse con calma, nella voce si avvertiva un'esultanza straordinaria. L'improvvisa apparizione di Stephen lo aveva sconvolto e, quantunque le molte inconvense lo avessero impedito di rifletterci a lungo, il suo amico era colmo di ansia inespressa, di angoscia e di ombre vague e cupe, simili a incubi. Guardava perciò all'attività frenetica sul ponte della galea con uno struggimento selvaggio. «Sta sventando le vele!» disse Jack. «Guardate quel mascalzone infido accanto alla scotta di maestra! Prendete il mio cannocchiala!» «No, signore, certo che no!» protestò Dillon chiudendo di scatto lo strumento. «D'accordo, d'accordo!» Una palla da dodici libri attraversò gli scopamari di dritta della Sophie, producendo due fori, l'uno dietro l'altro, e poi ronzò a quattro o cinque piedi da loro, sfiorando le brande. «Non mi dispiacerebbe avere un paio dei loro cannoni!» osservò Jack. «Vedetta!» «Signore!» giunse la voce distante. «Che ne è del veliero sopravvento?» Ma buongiorno anche a voi, miei mozzi e mozzi del vintage. È da un po' che avevamo lasciato da parte questo format della letteratura. Un format che avevamo iniziato con qualche video un po' imbarazzante. Però è sempre cosa buona e giusta ritirare fuori un argomento così importante come la letteratura. Ci sono delle opere che meritano ancora di essere conosciute o riconosciute, visto che da un po' di tempo ci sono delle opere un po' dimenticate. E tra qualche libro stampato così tanto per fare soldi e altra roba, ci sono ancora delle opere che meritano di essere lette. Perché ci sono comunque delle opere che, seppur vecchie o recenti, qualsiasi genere siano, è giusto che non vengano lasciate da parte, visto che siamo in un paese che purtroppo la lettura è un po' messa da parte, seppur ci siano dei lievi aumenti di lettori. Ma è pur sempre una cosa molto blanda. E allora mi farebbe piacere con voi fare queste quattro chiacchiere ogni tanto, però senza effetti speciali, di montaggi, cavolate varie, quello ci pensiamo già con i documentari, ecco. Siamo noi, una tazza di latte, qualche biscotto, e si va così avanti. Anzi, visto il caso, alla via così. Sì, perché oggi volevo parlare di un'opera che è solo l'inizio di una lunga saga che qualcuno di voi avrà già conosciuto nel mondo del cinema, che ha già qualche annetto sulle spalle, però non invecchia mai questa saga, e cioè le avventure di Jack Aubrey, di Patrick O'Brien. Un mondo scritto da questo grande appassionato di marina, in particolar modo ovviamente marina del suo paese, cioè la marina britannica, la Royal Navy. E tra l'altro questo scrittore sembra che abbia fatto parte con lo spionaggio britannico durante la Seconda Guerra Mondiale, ma le informazioni sono rare, quindi chissà cosa ha visto quell'uomo. Per chi non avesse ancora capito di cosa stiamo parlando, sicuramente vi verrà in mente Master and Commander, un film che ha guadagnato due Oscar qualche annetto fa, con Russell Crowe, che interpreta tra l'altro il personaggio, il protagonista di questa saga letteraria, cioè Jack Aubrey, ed è il suo medico di bordo, il suo grande amico Stephen Maturin. Il film in questione prenderebbe spunto da uno dei capitoli della saga ovviamente, cioè sfida ai confini del mare, ma già leggendo soltanto il primo libro della saga capiamo che il regista ha preso un po' spunto dal primo libro, di alcune azioni di guerra diciamolo, però non voglio spoilerare più di tanto ecco. Per fare un piccolo riassunto senza spoiler, perché ovviamente dovreste dargli una bella occhiata a voi, ovviamente. Siamo verso la fine del Settecento, quindi siamo in pieno svolgimento della fine tra la rivoluzione francese e la guerra napoleone, che Napoleone in teoria sarebbe ancora in Egitto, la Francia sta subendo delle grandi sconfitte sui confini contro la seconda coalizione e sulle isole spagnole, per essere più specifici a Port Mahon, nelle isole di Minorca, quindi in quel momento sotto dominazione, almeno per quanto riguarda militarmente parlando della flotta britannica, c'è questo capitano che è ancora un niente, un nessuno che vorrebbe però prendere finalmente un comando, come dice anche il nome del libro, perché diciamo che la gerarchia britannica, sia per quanto riguardava la marina che per quanto riguardava l'esercito, era molto vecchio stampo, non c'era meritocrazia come stava avvenendo nell'esercito francese rivoluzionario, ma c'era ben altro metodo, o te lo guadagnavi con la tua posizione nobiliare, oppure compravi il grado, cosa che era abbastanza impossibile per chi arrivava dal basso, lui non arriva dal basso, Giacobri sia chiaro, però agli inizi ha delle grandi difficoltà, fin quando poi non riesce a trovare il comando con molta difficoltà, ripeto, presso sempre il porto di questo piccolo brigantino, con la quale dovrà fare delle missioni inizialmente di scorta, per poi divenire proprio un cacciatore di prede nel bel mezzo del Mediterraneo, perché il Mediterraneo occidentale in quel momento brulica di navi francesi e spagnole, nemiche del pero britannico. La cosa affascinante è che lui, oltre ad essere un appassionato di musica, incontra un altro personaggio molto particolare in questo porto spagnolo, cioè Stephen Maturin, è un personaggio molto appassionato quando si parla di natura, animali, eccetera, eccetera, è un appassionato come lui di musica, si vorranno molto bene, peccato che all'inizio subito si odiano a morte, un bizzarro incontro che non vi starò a spoilerare. Nasce questa amicizia molto particolare in cui si scopre che questo Stephen Maturin, oltre ad essersi un naturalista, diventerà il chirurgo di bordo della nave. All'inizio si odiano, però ha un passato oscuro, un passato scomodo, almeno per chi è costretto a far parte della flotta britannica. E questo passato, per quanto piccolo è il mondo, lo ritroverà presso la nave di Jack Aubrey, quando avrà a che fare con qualcuno che aveva già conosciuto e che dovrà fingere di non conoscere, per nascondere, mi azzardo a dire, delle operazioni militari che hanno visto la sconfitta di un fronte in Inghilterra. Parliamo di un periodo storico molto movimentato, ripeto, c'è stata la rivoluzione francese, per chi è appassionato di storia può immaginare cos'è avvenuto in Gran Bretagna in quel periodo. Vi lascio immaginare. Inizialmente questo libro mi aveva messo molta difficoltà. Fate conto che avevo provato a iniziare a leggerlo nel 2013, se non sbaglio, per poi mollarlo lì, per un problema che poi ho affrontato, per fortuna, poco tempo fa. C'è tanto gergo marinaresco, c'è tanto gergo marinaresco. Io vi avviso, potrebbero mettere in difficoltà, anche se bisogna anche precisare che a fine libro c'è una lista di tutte le tipologie di parole che vengono utilizzate nel gergo marinaresco, che possono darvi una mano, vi danno una spiegazione, però all'inizio era abbastanza un po' pesante per me, il me di dieci anni fa. Invece poi ho voluto riprovare poco tempo fa la lettura e per fortuna ho recuperato, perché è una storia meravigliosa, è una storia d'avventura, di azione, di guerra, di ambizione. Ecco, perché diciamocela tutta, Giacobri è ambizioso, perché lui non vuole limitarsi al comando di una nave che fa scorta di mercantili, lui vuole andare a caccia, lui vuole affondare, anzi no, perdono, catturare, vuole aumentare la sua nomea di grande comandante, perché lui sa di essere un grande comandante e lo è, però deve fare anche conti con questa Gran Bretagna, con questa cultura non meritocratica che lo metterà già subito in difficoltà, subito in difficoltà. Questo comando lo porterà a dimostrare subito la sua capabilità, perché non si limiterà a fare semplice, inizialmente scorta e poi caccia ai mercantili nemici, no no, lui si metterà veramente a rischiare costantemente la salute personale, perché non è un pazzo, precisiamo, che metterebbe a morte i suoi uomini pur di prendere del personale potere, assolutamente no, lui sa quello che fa, ha le sue tecniche e talvolta sbaglia, perché sarà un saliscendi e il finale sarà movimentato, parliamo solo del primo capitolo, in questo caso. Ripeto, ambizioso, però non è stupido, non è un codardo, non è un uomo che si limita soltanto a pensare al suo, all'acqua che viene verso il suo mulino, ecco. Ci tiene al suo equipaggio, pretendo ovviamente il rispetto, ma talvolta si dimostra anche lui stesso, non il classico nobilotto inglese, tutto perfetto, ogni singola parola che viene fatta deve essere perfetta, soprattutto per quanto riguarda il contatto tra lui e la nobiltà inglese. Ecco, questo è un altro suo difetto, almeno un difetto per quanto riguarda l'Inghilterra dell'epoca, ecco. Lui, essendo anche un personaggio euforico e talvolta bevitore, ha una grossa difficoltà a confrontarsi con quella tipologia di nobiltà che si offende per una parolina, si offende per un gesto, si offende per un qualsiasi cosa. Ed è uno dei motivi per la quale avrà difficoltà all'inizio con l'aumento, tra virgolette, di rango, perché potrebbero esserci personaggi che, offesi e ritenendolo un personaggio inappropriato, indegno, ecco, potrebbero mettergli i bastoni tra le ruote. E in tutto questo contesto, tra alti e bassi, lui riuscirà a rimanere saldo alla normalità grazie a Maturin. Questa loro amicizia che non si limita soltanto all'andare nella cabina del capitano e suonare insieme, poiché appassionati, ripeto, di musica, è un confronto tra due mondi che, nonostante talvolta si schiantano tra di loro, dimostra una grande amicizia che durerà nel tempo, è un'amicizia che potete vedere nel film, è abbastanza lineare, però lo capirete ancora meglio leggendo il libro. È un'amicizia particolare, ripeto, ma questo libro dà grandi soddisfazioni, mi ha dato tanta adrenalina, darà tanta adrenalina a voi se siete appassionati del genere. E vi verrà voglia di continuare a leggere la saga, sicuramente, cosa che voglio fare anch'io, anche se in questo momento sono tartassato da altre tetralogie abbastanza recenti, che vorrò trattare con voi. Un libro che mi sta appassionando tantissimo in questo momento, mi ha proprio impallinato in maniera incredibile. continuo, ovviamente, con la saga di Jack Aubrey, questa è un'edizione vecchia, la stampa, infatti l'avendola comprata nel 2013 è un'edizione vecchiotta. È un libro in cui l'azione c'è, la sfida c'è, i combattimenti, quando è necessario farli, c'è. C'è un personaggio, un protagonista che non è perfetto, ed è questa la cosa bella, perché non esiste il personaggio perfetto. Il personaggio perfetto rovina. Questo è un personaggio con grossi difetti, ed è la cosa più bella del racconto. Ha un chirurgo come amico che ha una passione, ed è anche ricolmo di segreti, che poi possono essere svelati con calma durante la lettura. Il contesto è meraviglioso, parliamo delle coste spagnole e francesi, poi c'è anche una piccola parte in cui si va verso le coste egiziane. Tra l'altro bisogna anche precisare che segue abbastanza bene, non è nell'arco di poche settimane, qui si parla di più di un anno, si vedono contesti bellici che hanno fatto parte della storia napoleonica di quell'epoca. Si parla dell'assedio di Genova, in cui la flotta britannica e l'esercito austriaco assediano nella città, che è sotto il controllo del generale Massena, perdonatemi la pronuncia, scusatemi, durante la seconda coalizione in cui un Napoleone sta divenendo, anzi è già divenuto primo console e sta tornando in Italia, dove poi riporterà la vittoria francese con la battaglia di Marengo. Si parla di un'altra battaglia poco conosciuta, almeno nel contesto italiano, ma sicuramente a livello spagnolo, francese e inglese tanto molto conosciuta, cioè devo leggerla, la battaglia di Algeciras, anche qui in questo caso sicuramente la pronuncia sarà sbagliatissima, scusatemi, in cui praticamente a Gibilterra una enorme flotta franco-spagnola, seppur numericamente superiore, viene sconfitta da una flotta inglese, la flotta britannica per quanto riguarda il livello professionale era la migliore al mondo e lo si vedrà poi ovviamente in altre battaglie importanti come Trafalgar o poco prima, anzi no, togliamo se non sbaglio, il protagonista narra di essere stato alla battaglia di Abukir, quindi durante la campagna d'Egitto in cui anche in questo caso la flotta inglese distrugge, sconfigge quella francese, tra l'altro facendo saltare in aria l'ammiraglia francese, cioè l'Orient, l'Oriente, ecco. È un racconto ben sistemato in questi avvenimenti storici, ripeto, dà delle grosse precisazioni per quanto riguarda il gergo marineresco che magari può spaventare, ma io ripeto, se avete delle difficoltà a fine libro davvero ci sono le spiegazioni di ogni singolo gergo marineresco, vi può essere d'aiuto, arriverete in un certo punto in cui sarà più lineare la lettura, anche se leggete quei gerghi capirete bene o male di cosa parlate, di cosa parlano, scusate, e questa lettura d'avventura storica andrà giù liscia, che è una meraviglia. Beh, io in ogni caso non è che posso dire più di tanto ancora, l'unica cosa che vi posso consigliare, vabbè ve lo dice anche lei, l'unica cosa che vi posso consigliare molto semplicemente è, oltre a leggerlo ovviamente, recuperare un nostro articolo che ha parlato proprio di questo libro, sì, noi scriviamo anche articoli da lunedì al venerdì sul nostro sito internet www.godsavethevintage.com, però sia chiaro signori miei, se non volete perdere nessuno dei nostri aggiornamenti, video, articoli, qualsiasi informazione, dovete assolutamente iscrivervi al nostro canale Telegram, che purtroppo è poco conosciuto, ma lì non perderete nessuno dei nostri aggiornamenti, è gratis? Oppure, se volete farlo, in ogni caso, qui sotto, iscrivetevi al nostro canale YouTube, mettete mi piace, commentate, parliamo insieme, speriamo che questo, come piaccia anche a lei, che ci sta dando fastidio, leccandosi, ecco, vi possa piacere questo format che vorrei riprendesse un pochino più la vita, ecco, ciao, a chi io dico ciao a voi, vi ringrazio, e che il vintage sia con voi, ad un prossimo video.